Rassicura a Bruxelles il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in relazione ai fondi europei che saranno spesi per rilanciare un'economia strapazzata dalla pandemia. Il Premier, che guida la terza maggiore economia europea, sostiene che la quota italiana del Recovery Fund, concordata con la Commissione europea, rappresenta un'occasione per sanare vecchi problemi. Ed è questa l'occasione per disegnare un'Italia migliore, per lavorare a un progetto di investimento serio, complesso, che rende il Paese più moderno, più verde, più inclusivo dal punto di vista sociale. L'Italia è stata il primo Paese europeo ad essere stato aggredito dalla pandemia da coronavirus e fatica a riprendersi dagli effetti economici del blocco per arginare la diffusione del virus, che in Italia ha falciato almeno 35.000 persone. La logica con cui ci stiamo muovendo è facilitare la capacità di spesa, accelerare la spesa per investimenti, ma nel contempo concentrare i controlli, renderli ancora più severi. Con una contrazione dell'economia di oltre 8 punti percentuali, Conte ha invitato economisti accademici, sindacati, associazioni imprenditoriali a proporre idee per il rilancio economico del Paese. Io dico sempre, non è un tesoretto di cui beneficerà il governo in carica, da me preseduto, è un investimento che dobbiamo fare in Italia e in Europa per i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie. Grazie.